bene grazie grazie gennaro grazie a orestis grazie a tutto lo staff di ornimi un saluto di nuovo a tutte e tutti sono sono molto felice di essere qui con voi e anche un po emozionato perché siete un bel numero poi è la prima presentazione del mio libro e quindi perdonatemi magari se se mi emozionano un po sono molto contento che ci siano tante persone interessate all'insegnamento dell'italiano l2 ls con il digitale ma veniamo un po al dunque ecco allora questo è il libro che appunto diciamo è un manuale teorico ma soprattutto pratico su come usare il digitale per insegnare italiano a stranieri sia in presenza che che a distanza naturalmente non volevo affrontare tutto tutto lo scivile della didattica digitale era praticamente impossibile ma mi sono concentrato soprattutto sull'utilizzo che possiamo farne questo anche perché le applicazioni che troviamo su internet e io ho trattato quasi tutti quasi esclusivamente applicazioni che si possono trovare gratuitamente le applicazioni cambiano continuamente cambiano a volte scompaiono anche mentre scrivevo il libro ad esempio mi è scomparsa un'applicazione e ho dovuto togliere un intero paragrafo perché era chiuso quindi mi sono concentrato appunto più sull'uso che possiamo farne perché quando un'applicazione scomparirà o ne arriverà una nuova magari una nuova più originale più funzionale sapremo comunque come organizzare i nostri materiali digitalmente inoltre ciò che mi propongo naturalmente non è di mettere il digitale davanti a tutto ma di armonizzarlo con la lezione tradizionale tradizionale mettiamolo tra virgolette perché noi insegnanti di italiano per stranieri lezioni tradizionali e ne facciamo ben poche però diciamo quelle classiche dove non usavamo non usavamo il il digitale io penso che tutte queste applicazioni ci diano delle possibilità in più per la nostra didattica se siano anche un solido supporto e soprattutto ci avvicini anche ai nostri studenti e ci avvicina e anche abbatte il famoso filtro affettivo del nostro caro amico e maestro krashen e tuttavia il fattore umano resta sempre al centro il fattore umano quello dell'insegnante e quello dello studente entrambi sono al centro dell'apprendimento anche se noi insegnanti siamo sempre più diventiamo sempre più facilitatori facilitatori linguistici e cosa sono i facilitatori sono coloro che rimuovono gli ostacoli dell'apprendimento e il digitale nella mia esperienza in molti casi a questa funzione ad esempio quella di abbattere l'ansia poi ne parleremo più avanti e l'ansia sempre citando krashen era uno degli ostacoli più importanti per l'acquisizione linguistica ok allora il tempo a nostra disposizione è stretto e ho vari argomenti da affrontare e questi sono sono gli argomenti primo è perché usare il digitale in classe parleremo poi di siti e blog di classe delle bacheche virtuali delle presentazioni multimediali in particolare quelle capovolte parleremo di video ancora di video punti toc dei meme e poi appunto lasceremo lo spazio alle domande cominciamo subito però con la prima domanda perché usare il digitale in classe intanto è comodo pratico e veloce qualcuno dirà non è così veloce non è così pratico perché per preparare una lezione digitale occorre tempo con pratica occorre abilità certamente ma occorre anche per preparare una lezione occorre tempo anche per preparare una lezione tradizionale e il digitale però ha un aspetto in più che una volta preparata la lezione potremmo tenerla lì da parte e ri riutilizzarla in un altro momento con altri studenti in un'altra classe magari anche modificandola leggermente in modo pratico e veloce è principalmente materiale autentico in che senso ho messo principalmente perché non è detto che durante una lezione digitale si debba usare solo materiale autentico però l'uso stesso del digitale è è autenticità e anche questo poi vedremo negli esempi che vi proporrò lo dice il MIUR quindi il ministero che per chi insegna nelle nelle scuole pubbliche dovrebbe sapere perché dal 2006 con il quadro comune europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente in cui si dice che bisogna sviluppare le competenze digitali e poi dal 2015 con il piano nazionale scuola digitale è un tipo di insegnamento apprendimento attivo è attivo in entrambi i sensi sia per l'insegnante che per lo studente valorizza la partecipazione del discente il discente deve sapere ma anche saper fare e questo anche questo è rientra perfettamente nelle linee del MIUR ma anche della comunità europea questo è molto importante perché serve a chi ha esigenze speciali tipo studenti BES con bisogni educativi speciali perché è molto semplice e veloce modificare una una lezione a seconda del livello di conoscenza della lingua si apprende in modo divertente anche questo non è per niente da sottovalutare perché se ci si diverte si impara senza accorgersene e infine è una presenza ormai imprescindibile nella vita di tutti i giorni di tutti i giorni attraverso lo smartphone con cui facciamo qualsiasi cosa e i detrattori ad esempio dello smartphone in classe mi fanno un po sorridere perché mi sembrano un po fuori dal tempo visto che nessuno di noi ormai ne fa a meno a partire anche ad esempio dai miei anziani genitori hanno sempre lo smartphone in mano ok vediamo adesso alcune idee che potrebbero essere utili per la nostra didattica nel capitolo 2 del libro affronto appunto la costruzione di un sito o di un blog di classe e poi anche di un wiki wiki ma questo potete trovare sul libro e cominciamo subito con vi faccio mostro subito un esempio ecco smagliato bene questo qui è un sito costruito con google sites che è un'applicazione gratuita del pacchetto di google che basta avere un indirizzo gmail ed è a nostra disposizione è molto semplice intuitivo per costruire un sito ci mettiamo come aprire un profilo di facebook ecco poco più questo sito è stato è stato costruito durante una formazione a distanza un piano lockdown nel 2020 con un gruppo di partecipanti di insegnanti di treno per stranieri circa una ventina e appunto come dicevo in pochi minuti è stata creata la struttura del sito ho fatto vedere come si inseriscono le immagini come si modifica il template come si possono caricare immagini documenti sia dal locale dal proprio computer oppure da dal drive di google e e poi sono state create subito alle pagine una pagina per ogni partecipante dove ognuno inseriva vabbè la prima c'era prima esercitazione era proprio una presentazione come caricare un'immagine e poi gli studenti caricavano mettevano le loro attività esercitazioni quindi ogni studente aveva la propria pagina con il proprio materiale poi è stato creata questa sezione incontri dove venivano alla fine di ogni incontro veniva caricato il pdf del dell'incontro quindi qui anche chi non aveva potuto partecipare all'incontro poteva ritrovare tutto il materiale di cui avevamo parlato infine c'è una pagina su materiali e idee per la didattica questi qui sono materiali condivisi da me ma anche dai partecipanti materiali incontrati durante il corso che erano stati utili per per le esercitazioni e sono rimasti qui a disposizione vi faccio notare anche un'altra ultima cosa sono un page che ci servirà dopo a parte il programma del corso qui c'è una lavagna virtuale e dopo ne parleremo ok allora dovrei tornare alla alla presentazione ecco vedi allora torna su facciamosi scusatemi ecco il problema tecnico non mi sparisce la barra in alto aiuto gennaio allora che devi fare devi fare la presentazione no e dovrei trovare no cambiare schermata allora praticamente devi cambiare schermata allora togli la condivisione clicca diciamo la schermata prima della condivisione poi dopo ricondividi ok ok però paura mi dia cioè il problema è che c'è la barra sopra che dovrebbe salire no e ridarmi tutte le pagine di chrome ok allora praticamente prova altrimenti devi provare a condividere diciamo la finestra anziché c'è la finestra soltanto condividi solo la finestra però mi da mi da quella pagina lì che è aperta aspetta però aspetta la presentazione deve essere aperta ovviamente sì no la presentazione aperta e dietro questa pagina qui ma perché prima funzionava ma che aspetta allora adesso provo a condividerla io la presentazione in modo tale allora scusateci per questi problemi tecnici che sono ovviamente diciamo il bello della diretta evidente sì però bello che prima come lo faceva ovviamente di questo no allora posso condividerla eccolo ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta eccolo ok scusatemi e allora ritorniamo a bomba quindi l'utilità di un sito di classe promuove l'apprendimento collaborativo e cooperativo si lavora con il metodo della didattica capovolta ne vedremo degli esempi costituisce un deposito di materiali facilmente reperibili abbiamo visto che sono i materiali condivisi ma anche tutti i materiali personali di della pagina di ogni partecipante è un portfolio online attraverso il quale è possibile desumere l'evoluzione delle conoscenze del discente questo soprattutto su corsi a lungo termine è molto importante vedere tutto il percorso didattico che hanno fatto i nostri studenti assegna compiti autentici che tengono conto delle differenze individuali questo qui riferisco sempre ad esempio ai best dei percorsi di apprendimento e del progresso dimostrato infine l'insegnante riveste a pieno titolo il ruolo di facilitatore allora come vi dicevo avevo ho inserito lì nella home page una lavagna virtuale in padlet perché parla e tante diciamo a varie funzioni e tra queste ne ha una di blog perché google sites a questo non è proprio una funzione precisa per per fare un blog la differenza tra un sito un blog è che il sito è statico le pagine rimangono lì fisse nel blog man mano che pubblichiamo nuovi materiali l'ultimo materiale pubblicato è all'inizio mentre gli altri scorrono indietro ecco per ovviare a questo problema ho usato questa funzione di padlet dove si inseriscono via via gli ultimi aggiornamenti le novità e tutto il resto scorrono dietro padlet infatti è integrabile con google sites padlet appunto è una bacheca virtuale o lavagna virtuale ma ci piace più chiamarle bacheche perché hanno più funzioni rispetto ad una lavagna più ora vi farò degli accenni su queste tre lavagne padlet lino e jam board le funzioni quali sono principalmente sono due come lavagna da usare durante la lezione dove possono scrivere le parole importanti metterci immagini che ci servono per la lezione oppure possono essere anche preparate in anticipo e poi utilizzate in classe e che cosa possiamo fare possiamo appunto usarle per prendere appunti per fare un'attività di brainstorming all'inizio della lezione per fare una presentazione presentarsi presentare qualcuno qualcosa o per fare una descrizione questo è un esempio di lavagna di jam board jam board anche anche se una applicazione di google del pacchetto di google gratuita è molto semplice come la lavagna quella lavagna abbastanza spartana non ha tutte le funzioni ad esempio che ha padlet però è molto pratica e veloce condivisibile ci possiamo scrivere appunti e come in questo caso ad esempio è la prima lezione che ho fatto una studentessa a distanza quindi una lezione conoscitiva dove ho scritto un po di cose che sono venute fuori durante la lezione a differenza di una lavagna normale lavagna di ardesia oppure lavagna con i pennarelli questo tipo di lavagne sono hanno pagine infinite quindi possiamo aggiungere pagine senza dover cancellare quello che è stato fatto in precedenza e quindi tutto questo poi può rimanere a disposizione dell'insegnante e dello studente padlet padlet probabilmente molti di voi lo conosceranno perché è una delle più diffuse ha un po il problema che negli ultimi anni è diventata semi pagamento ovvero dalla possibilità di di preparare solo tre tre lavagne se ne vogliamo preparare di più dobbiamo pagare il prezzo non è molto è uno dei più bassi un prezzo mensile quindi chi ne fa uso probabilmente può essere conveniente e qui c'è un esempio parliamo di pizza si parte da una domanda la pizza il mio piatto preferito è il tuo e vedete cosa possiamo fare mettiamo pizza margherita è la mia preferita e possiamo inserire un'immagine caricarci un'immagine possiamo anche fare un disegno possiamo registrare un video dal nostro computer o dal nostro smartphone e caricarlo sul padlet possiamo catturare immagini sempre con il nostro con il nostro con la nostra webcam e possiamo anche inserire link a risorse esterne quindi ci dà questa possibilità di uscire fuori e poi parla delle diverse altre funzioni nel capitolo 4 ne parlo e do anche altri esempi su come usare utilizzate infine lino è un'altra questo è proprio a bacheca come vedete allo sfondo di sughero ed è molto interessante perché anche questo è condivisibile solo tramite link non c'è bisogno di registrarsi usare mail niente quindi basta dare il link e tutti possono collaborare a questa questa bacheca su questa bacheca qui ho fatto un'attività dove chiedevo descrivi te stesso attraverso un'immagine con queste due regole carica un'immagine non deve essere di te stesso te stessa ma di qualcosa che ti rappresenta scrivere in italiano e usare uno sticky colorato vedete sono tipo post it per descriversi con una o due frasi e come vedete gli studenti hanno hanno messo un'immagine con lo sticky mi sento parte di natura io sono come un arbero amo animali in particolare cani o due cani come nella foto si chiama bus e astor ciao mi chiamo gianna sono greca di atene quindi è una lavagna collaborativa a cui tutti gli studenti possono partecipare ma ancora più interessanti delle lavagne o bacheche virtuali sono le presentazioni multimediali come quella che sto mostrando ora voi che è fatta con presentazioni google ma ce ne sono moltissime altre gratuite e con diverse funzioni e anche molto belle e quindi le presentazioni multimediali sono insieme di depositive che possono contenere testi immagini e video che vengono visualizzate in sequenza su uno schermo vi mostro un esempio questo qui è stata una presentazione creata con i maize i maize ha dei template tra cui possiamo scegliere la nostra presentazione e ha diversi template molto interessanti come questo come potete vedere ha questo effetto 3d tridimensionale e come tutte le lavagne possiamo abbiamo la possibilità di inserire testi inserire immagini o video questo qui è un video quindi questo è molto diciamo anche molto divertente e molto divertente soprattutto in ottica in ottica di didattica capovolta ovvero se vogliamo far fare una presentazione agli studenti quindi infatti vediamo perché usare le presentazioni multimediali il materiale organizzato in modo chiaro e lineare non è possibile dimenticare o involontariamente saltare alcuni passaggi gli obiettivi della lezione sono espliciti questo ci tengo a sottolinearlo in qualsiasi tipo di lezione è bene spiegare fin dall'inizio cosa faremo e quali sono gli obiettivi da raggiungere alla fine della lezione scandiscono il tempo della lezione anche questo è molto importante attirano maggiormente l'attenzione e sappiamo come è difficile a volte tenerla alta e gli apprendenti apprezzano il fatto che la lezione è stata pianificata con cura non hanno la sensazione che sia stata improvvisata anche se spesso non è assolutamente vero ma a volte possono avere questa sensazione però vi dicevo la cosa più interessante è quella delle cosiddette presentazioni capovolte ovvero far preparare le presentazioni ai nostri studenti basta trovare un argomento può essere la mia casa, la mia città, i miei hobby un argomento di grammatica, una visita al museo, una ricetta, una lezione di storia dell'arte quello che vi viene in mente ma soprattutto quello che trovate via via nel vostro percorso didattico e che interessa anche ai vostri studenti quindi la finalità è creare una presentazione che poi gli studenti esporranno ai loro compagni in una delle lezioni successive e quali sono i punti di forza di queste presentazioni capovolte la prima cosa è un compito di realtà e gli studenti quando sentono che stanno facendo qualcosa di reale come quando utilizziamo materiale autentico sono più motivati lascia molto tempo a disposizione allo studente per prepararsi e quindi lavorare sul lessico e grammatica sappiamo bene che ci sono alcuni studenti che quando siamo in classe facciamo loro una domanda direttamente e devono avere il tempo di rispondere alcuni sono timidi oppure per problemi socioculturali non rispondono immediatamente ecco, questo qui invece è un modo per dare loro tutto il tempo che vogliono per prepararle e questa cosa abbassa di nuovo il filtro affettivo e soprattutto l'ansia e infine fa lavorare sull'esposizione orale perché una volta preparata lo studente deve descrivere ciò che ha inserito in questa presentazione e quindi l'abilità orale ne trae sicuramente un gran beneficio e passiamo adesso a i video i video nella didattica in presenza e distanza è una consuetudine e sappiamo tutti che sono utilissimi eccetera tuttavia l'audiovisivo come anche tutti gli altri strumenti che abbiamo visto finora e che poi è analizzato nel libro non è che garantiscono automaticamente successi didattici clamorosi però rappresenta sicuramente una possibilità in più che può condurre anche al capovolgimento dei ruoli tra docente e discente infatti i video si possono usare in due modi un uso diciamo passivo quello classico quando mostriamo un video in classe quindi sicuramente si sviluppano le abilità di ascolto il video aiuta a comprendere tutta la comunicazione non verbale quindi aumenta anche la comprensione da parte dello studente si possono fare attività comunicative orali dopo aver visto il video oppure di scrittura e qui ci siamo però possiamo pensare anche ad un uso un uso attivo del video ovvero quello di girare noi stessi o far girare ai nostri studenti un video in questo caso tutte le abilità si trovano coinvolte e con un po' di creatività e con molto divertimento e tanta collaborazione e cooperazione tra gli studenti avremo sicuramente dei risultati molto interessanti dal punto di vista linguistico vediamo cosa possiamo fare girando un video per prima cosa possiamo utilizzare un video per descrivere ad esempio la descrizione della propria stanza la descrizione di un oggetto che è una casa oppure di un luogo la strada che uno fa da casa a scuola ecco, voglio dirvi anche che i video la lunghezza di solito devono essere brevi diciamo diciamo 30-60 secondi massimo due minuti ora dipende un po' dall'argomento ok? si può parlare di qualcosa di specifico tipo anche qui scegliere un oggetto utile che abbiamo in casa e descriverne la funzione mostrare un libro che si è letto spiegarne chi è l'autore quando è stato letto di cosa parla possiamo esprimere un'opinione su un argomento un argomento affrontato in classe mi viene in mente ora l'utilizzo dello smartphone a scuola oppure possiamo documentare un'attività svolta in classe allora qui ve la mostro molto velocemente non entriamo in dettaglio ma la potete trovare sul libro questa è un'attività però ci teniamo a farvi vedere perché è un'attività del 2007 mi sembra quindi di diversi anni fa ci chiamiamo l'abbigliamento la moda fare shopping e integrava già la diciamo la la didattica la didattica tradizionale con il libro infatti usavo l'unità 10 direte 1 della guerra edizioni per appunto parlare di abbigliamento andare a comprare fare shopping eccetera e univa appunto questa lezione tradizionale con una fase con la videocamera non c'erano ancora gli smartphone con la videocamera quindi usavamo proprio una videocamera digitale e ho fatto fare agli studenti una vera e propria sfilata nel corridoio della scuola quindi c'erano gli studenti sfilavano un altro descriveva come erano vestiti e abbiamo fatto un video con questa attività comunque appunto poi la potrete leggerla più nel dettaglio per vedere come è stata svolta allora quindi documentare un'attività svolta in classe video interviste qui ci possiamo sbizzarrire interviste ai compagni interviste insegnante studente oppure interviste anche al di fuori del contesto scolastico possiamo fare le interviste doppie interviste doppie non so se ce le avete presenti sono quelle erano diventate famose con le iene che facevano ponevano una domanda a due personaggi e poi le risposte venivano montate con le due persone con gli schermi affiancati quindi una domanda e ognuno dava la risposta questa attività qui l'ho fatta anche questa la prima volta nel 2008 e vi faccio vedere qui ho ancora il documento in video vintage con due studentesse che rispondono alle domande scusa roberto non si vede il video non si vede non si vede il video ah ok allora facciamo un altro modo bisogna ricondividere magari si aspetta allora però se vado così aspetta non dovresti vedere adesso si adesso si però ci becchiamo la pubblicità della concorrenza non dovresti non dovresti di che se ne sei? leone di 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 che se nio sei? scusa di che eh di 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 segno sì tutto ti piace studiare? che che ti piace studiare? dipende dal momento e dalle circa sempre che cosa fai nel tempo libero? ehm via viaggio che cosa fai nel tempo libero? ehm leggo e studio e dipingo ok quindi vi sarete fatti un'idea ecco ma Mary scomparso allora vediamo come ho fatto nascondi controlli di riunione mobile perfetto quindi vi siete fatto un'idea di come funziona le interviste doppie dietro questo video c'è stato un lavoro con con le due studentesse ovvero eh insieme abbiamo stilato eh la lista delle domande poi eh le ho fatte individualmente rispondere alle domande poi abbiamo fatto le prove eh quindi per con la domanda e la risposta e infine quindi qua dopo eh se erano già allenate quindi allenate sia sulla pronuncia che su sulle risposte ricordarsele anche perché erano diverse domande abbiamo fatto questo questo video come vedete il livello di di queste studentesse non era molto alto insomma erano una uno eh però questo tipo appunto e questo è per dimostrarvi che possiamo eh fare queste attività calibrandole anche per livelli eh molto bassi livelli da livello a uno che naturalmente con livelli più alti possiamo fare cose un pochino più complesse eh poi possiamo fare le interviste immaginarie quindi eh sono tipo le video interviste però qui pensiamo a un personaggio eh un personaggio famoso un personaggio storico e facendo lavorare gli studenti a coppia o piccoli gruppi eh mhm registrare eh queste interviste l'attività del telegiornale che questo è un grande classico e è molto interessante questa qui soprattutto se abbiamo studenti che fanno un percorso con noi abbastanza lungo perché con il telegiornale possiamo andare a recuperare eh eh le le lezioni le attività i temi gli argomenti che abbiamo affrontato via via e e quindi però per ogni argomento puoi creare una notizia del del telegiornale e è un'attività molto divertente gli studenti di solito si appassionano moltissimo possiamo fare un documentario qui forse parliamo di livelli un po' un po' più alti però anche se facciamo eh una gita una visita a un museo comunque usciamo fuori dal contesto aula può essere interessante far 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 girare un video commentandolo su tipo documentario infine se è questo anche questo sempre che i livelli più alti ma non non è detto eh la vera e propria video lezione ovvero qui proprio si capovolge ulteriormente il il ruolo insegnante e studente quindi qui lo studente organizza una vera e propria video lezione la stessa cosa si può fare con le presentazioni multimediali questo ok bene allora creare video quali sono i punti di forza di questo tipo di attività di nuovo è un compito di realtà il discente è soggetto attivo del proprio apprendimento direi proprio che è protagonista del proprio apprendimento contrasta timidezza o paura questo anche ne abbiamo già parlato prima però quando si si può registrare più e più volte ci si prepara bene ciò che vogliamo dire e quindi anche qui si abbatte un po' tutta l'ansia che può venire invece durante un colloquio faccia a faccia e sempre per lo stesso motivo abbatte il filtro affettivo e di conseguenza fa parlare anche chi non è molto loquace ok collegato alla creazione di video vi ho scelto un altro dal capitolo 9 in cui parlo dell'utilizzo didattico del social network in cui ho affrontato appunto l'uso didattico di facebook twitter instagram pinterest e tiktok quindi sempre collegandomi al video ho scelto di mostrare una cosa con tiktok tiktok se non lo conoscete comunque è un social social network che ha il più alto tasso di crescita e diffusione soprattutto tra i giovani quindi perché ha una classi di adolescenti e anche qualcosa in più sicuramente loro conoscono tiktok benissimo e potranno insegnare a voi e anche qui di nuovo si capovolgono i ruoli molto interessante questa vi faccio vedere anche qui partiamo subito con un esempio così per chi non lo conosce si fa subito un'idea allora questo è un breve video girato con l'applicazione di tiktok e con il lip sync è una funzione di tiktok con la quale si può fare un doppiaggio al contrario ovvero viene presa un audio già esistente e i tiktoker o i tiktokers in questo caso mimano quello che ciò che viene detto ma ve lo faccio vedere ripetiamo la pubblicità quanti anni hai 4 4 perfetto di dove sei non lo so perché non me l'hanno detto tante volte quindi non mi ricordo non ti ricordi di dove sei dove vivi non te l'hanno detto non te l'hanno detto sai chi sei non sai chi sei ok allora un attimo che devo rinascondere ok quindi qui ora ringrazio i miei colleghi di accademia del giglio lorenzo capanni e cecilia puntenani che si sono prestati a fare questa scenetta e questa scenetta il dialogo è un tiktok famoso che gira appunto su internet è un dialogo tra paolo bonolis e questa bambina qui ora c'è la trascrizione e la cosa interessante è questa qui vediamo come possiamo fare un'attività con lip sync per prima cosa selezioniamo degli audio da utilizzare in classe possiamo selezionarli noi insegnanti oppure farsi aiutare dagli studenti e poi insieme scegliamo quali sono i più carini e divertenti cercando di evitare magari quelli con le parolacce o con troppe parolacce perché un po' ce ne sono ma è comunque è lingua reale quindi vanno bene poi suddividiamo la classe in gruppi di due o tre studenti ognuno con un audio su cui lavorare e ogni gruppo dovrà pensare a una situazione adatta e editare il video ok la cosa più interessante però poi è il quinto punto ovvero dopo che abbiamo fatto questo video girato la scenetta ci siamo divertiti facciamo recitare l'audio realmente agli studenti che quindi se non c'è anche qui lavoreremo quindi sulla produzione rale questo fatto ha diversi punti di forza il lessico si arricchisce si imparano nuovi vocaboli ed espressioni idiomatiche l'abilità di produzione scritta della lingua migliora perché avete visto sopra il video c'è c'era una scritta era quando l'insegnante ti fa domande troppo personali mi pare una cosa del genere quindi quando editiamo il video dobbiamo anche mettere un titolo e poi migliorano le competenze di comprensione orale di pronuncia si acquisiscono sicurezza e scioltezza nel parlato anche qui perché gli studenti proveranno più volte il il testo si mette in pratica l'apprendimento cooperativo allora passiamo adesso l'ultimo argomento i meme questo è un meme che abbiamo fatto a scuola qualche tempo fa quindi abbiamo batman e robin robin dice posso invitare qualche amici batman amico e desidera un bello schiaffone ok questo qui era un tipo di attività come vedete questo è un errore classico tipico il qualche usato poi con il plurale ok abbiamo fatto con un gruppo di studenti abbiamo trovato un po gli errori comuni più comuni che possono capitare abbiamo tirato fuori insieme un po di mene i meme perché sono interessanti perché sono testo più immagine quindi abbiamo tutta la potenza dell'immagine e poi possiamo lavorare anche molto sul sull'aspetto testuale fatti smerni servono a comunicare un concetto un'idea in maniera più efficace facendo leva proprio sulla forza espressiva dell'immagine e del testo brevissimo che solitamente l'accompagna vi faccio vedere altri due esempi qui abbiamo spongebob che è svenuto e lo studente che dice scusa prof non dirò mai più ando invece di vado che quindi anche qui abbiamo lavorato su un classico un classico errore l'altra invece avevamo lavorato sul passato prossimo quindi che ci sono tre scene nella prima immaginiamo che sia un insegnante che chiede qual è il passato prossimo di cadere ai primo studente risponde sono caduto la studente essa sono caduta e il terzo studente fa ho caduto l'insegnante si arrabbia e lo studente cade davvero dalla finestra viene buttato fuori ok i meme dei meme ne parlo appunto nel capitolo 8 nel paragrafo 8.5 tra l'altro il capitolo 8 è anche lo specimen del libro che quindi potete scaricare gratuitamente dal dal sito di ornimi e quindi potete vedere anche farvi un'idea di come sono strutturati i capitoli e ecco oggi però vi volevo far vedere un'attività che non è sul libro non è presente sul libro è nuova quindi si chiama quando mi chiedono cosa in testa vedete questo l'ho creata io ho messo pronomi congiuntivo asiliari verbi piuttosto che modali ok vi faccio vedere come può essere strutturata un'attività usando i meme allora quindi mostriamo innanzitutto il meme quello come ho fatto adesso con voi e sarà l'esempio di quello che devono fare l'attività si può svolgere sia individualmente che a coppie con piccoli gruppi in entrambi i casi comunque diamo agli studenti il meme vuoto cliccando qui troviamo il meme da riempire ok lo possiamo possiamo stamparlo oppure darlo in digitale gli studenti dovranno comunque completare questo meme se stampato naturalmente ci scriveranno sopra in digitale ci sono numerose applicazioni per poter scrivere sopra un'immagine non poteranno farlo con quello e però diamo agli studenti dei suggerimenti su su ciò che devono fare tenendo conto anche del loro livello quindi io qui ho scritto uno degli esempi scrivi cosa in testa in questo momento oppure scrivi sette cose che hai fatto ieri e questo è utile ad esempio per ripassare il passato prossimo oppure scrivi sette cose che facevi da piccolo o da piccola e quindi questo invece per ripassare l'imperfetto scrivi sette argomenti grammaticali più difficili scrivi le sette parole italiane che ti piacciono di più scrivi sette obiettivi che vorresti raggiungere quindi qui siamo già livelli un po più alti oppure scrivi sette parole che ha imparato oggi a lezione per rinforzare il lessico questo appunto su base individuale ma se vogliamo far collaborare gli studenti tra loro li possiamo mettere a coppia in piccoli gruppi e dare dei suggerimenti diversi dagli altri quindi ad esempio ognuno scrive cosa in testa il suo o la sua compagna quindi immagina che cosa in testa e poi si confrontano i meme l'altro esempio insieme gli studenti decidono le sette cose da fare nei prossimi giorni e quindi ad esempio questo può essere utile per lavorare per rinforzare il futuro a coppie si scrive sul meme le cose che si hanno in comune oppure le cose che ci piacciono oppure per ripassare il lessico di un determinato argomento svolto in precedenza si chiede di completare il meme con il relativo lessico infine per ampliare il lessico si chiede di trovare ad esempio sette aggettivi che riguardano il carattere o sette parole relative a un determinato tema o argomento ok quindi questa questo tipo di attività con i meme è trasversale vari livelli è divertente e utile ok allora concluderei il mio intervento con alcuni consigli che valgono per qualsiasi tipo di didattica svolgiate che sia digitale o meno il primo seguire le inclinazioni dei nostri studenti ok ogni studente è diverso dall'altro quindi cerchiamo di capire e di seguire le loro inclinazioni comprendere le necessità didattiche degli studenti e adattarsi alle loro richieste ok questo qui valido per qualsiasi cosa qualsiasi argomento se vi chiedo un argomento difficile che non è al loro livello cerchiamo di trovare il modo di affrontarlo comunque semplifichiamo facilitiamo troviamo un metodo e adattiamoci alle loro richieste troviamo appigli alla vita reale questo è sempre utile e molto funzionale per l'apprendimento variamo le attività facciamo attività brevi diversificate di tipo proprio tipo diversi di attività proprio perché come dicevo prima ogni studente ha un tipo di apprendimento diverso dall'altro quindi più forniamo diverse opportunità più è probabile che poi avvenga l'acquisizione linguistica facciamoci guidare dall'esperienza e dall'istinto e infine facciamo anche ciò che piace a noi e ciò che piace a noi poi si comunica anche agli studenti fine vi auguro un buon lavoro con o senza digitale un'ultima parola sul sul libro che appunto un libro pensato per insegnanti facilitatori linguistici aspiranti tali o anche a chi deve sostenere le certificazioni di lingua e oltre agli argomenti che abbiamo visto ora insieme nel libro vengono affrontati anche le wiki di classe come usare i documenti collaborativi l'ebook come rendere interattivi i video l'uso dello smartphone in classe i social network ve l'ho già accennato e infine anche come creare giochi ed esercizi interattivi vi ringrazio ciao 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 ciao